Oggi parleremo di un argomento molto ma molto popolare su social, sui forum, in giro quando si parla nei campeggi, nella risosta con camperisti, caravanisti, eccetera. L'argomento è il concessionario. Parte prima, perché poi ce ne saranno sicuramente anche altre volte di cui bisogna parlare d'argomento. Il discorso è questo, ogni volta che c'è qualcuno che ha un problema, che ha una difficoltà, che parla di qualcosa, cosa salta fuori? Quello che dice, guarda il concessionario lascia stare, sono tutti, ma tutti, tutti delinquenti, disgraziati, farabutti, malafede, campera solo dai privati, campera solo dai privati. Bene, allora, diciamo subito che è vero, ci sono dei concessionari disgraziati, ci sono dei concessionari farabutti, sono esattamente il 2% del totale, ovvero quella percentuale fisiologica che è anche presente in tutte le cose che facciamo nella vita. Cioè, chi scrive, il dentista che scrive, oh, lascia stare i concessionari rivolgiti solo ai privati, per esempio, o l'edicolante, o l'operaio, o l'imprenditore, non sanno che anche nei loro lavori il 2% è così, ma è da pensiero debole, cioè è veramente preoccupante per chi lo dice, il dire che siccome uno ha avuto un'esperienza negativa, 2, 5, 10, allora tutti sono così. Quando si utilizza un sistema di ragionamento, una razio, per cui la mia esperienza equivale è al totale, o ancora peggio, il siccome io ho avuto un'esperienza negativa, tutto il mondo è così, attenzione, perché si sta dicendo, io sono una persona debole, non sono capace di affrontare la vita e quindi la butto lì così. Mentre una persona seria, normale, intelligente, che sia in pace con se stesso e con il mondo, che abbia relazioni normali, insomma, una persona equilibrata, dice, attenzione, hai avuto un problema, gestiscilo, ecco, gestire, anche perché se andiamo poi a vedere le statistiche ad esempio del Tribunale di Milano, ci dice che anche nell'anno in corso le cause derivanti da trattative, da acquisti con concessionari e da acquisti privati, beh, quelle con i privati sono enormemente più grandi, cioè la realtà vera dei fatti ci dice che è lì che c'è il problema, perché è lì che si va a sedere scoperto, anche quando c'è l'amico avvocato avvocato che mi ha detto di. Allora, lasciamo stare per favore i pareri degli avvocati, perché con tutto il rispetto, io ho un cugino avvocato, ciao Carlo, che è in gambissima per altri, e il discorso è questo, non è che l'avvocato può dare il parere giustamente, perché fa parte della sua professione, ma l'avvocato non è il giudice, quindi attenzione, attenzione, perché poi quello che succede nella vita reale è che nella maggior parte dei casi, sia in termini assoluti che percentuali, i casini avvengono nelle trattative tra privati, e questo ce lo dice il Tribunale di Milano con le statistiche che sono pubbliche, che tutti possono vedere. quindi attenzione, attenzione quando si fa i totalizzatori, i totalizzanti, che sciocchezza, i totalizzanti, cioè quando si dice che siccome è successo a me, allora deve succedere a tutti, oppure siccome ho avuto solo esperienze negative, allora sono tutte così. Attenzione, e da pensiero debole facciamo sempre le persone serie, mature ed equilibrate, cioè quelle che nella vita sono capaci di gestire le problematiche, perché chi non è capace di gestire le problematiche cresca, impari, perché vuol dire che ha un problema, ed è bene che lo affronti con se stesso e che lo risolva il più breve tempo possibile, per sé, non mica per me. Ciao!